Rosemary è una suora missionaria del Sacro Cuore di Gesù in Uganda, una suora che dal 2012 recupera ogni giorno bambine rapite dai ribelli. Per aiutarle ad avere un futuro insegniamo loro un mestiere, sottolinea Rosemary, così le piccole donne ritrovano la loro vita e gioventù persa ritrovano una speranza, come su Rosemary racconta nel suo libro. Così come gli scarti e i rifiuti possono essere cuciti per formare degli oggetti stupendi, conclude la missionaria, anche queste donne che sono state rifiutate possono ricucire le loro ferite con tanto lavoro e pazienza e tornare ad essere stupende.